Fondazione Cariplo finanzierà con più di mezzo milione di euro i progetti percorsi di natura del Parco del Mincio. Tra il 2013 e il 2014 verrà perciò realizzato un sottopasso nel ponte di San Giorgio tra Sparafucile e Campo Canoa. Il sottopasso del ponte di San Giorgio è pronto a diventare realtà. Fondazione Cariplo ha accolto il progetto promosso del Parco del Mincio che prevede una serie di interventi tra cui la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale tra le sponde dei laghi di mezzo e inferiore all'altezza di Sparafucile. 540 mila euro di finanziamento, il più corposo tra quelli erogati da Fondazione Cariplo. Questo progetto nel momento in cui si è pensato ha avuto valore già da quel momento perché tutti gli attori ci hanno creduto perché è stata una risposta importante ad esigenze ambientali, paesaggistiche ma anche di sicurezza. E quindi è con piacere che viene premiato il lavoro di una squadra, dei funzionari del Parco e di tutti quelli che hanno lavorato perché raggiungere questo traguardo è un risultato importante per tutta la comunità mantovana. Il sottopasso verrà realizzato tra la Rocca di Sparafucile e il Campo Canoa e sarà raccordato con le ciclabili esistenti. Sarà in particolare reso idoneo sia al transito umano che faunistico con la posa di una pavimentazione in ciotola e l'installazione di una illuminazione a basso impatto. Il progetto percorsi di natura di cui il sottopasso fa parte comprende anche altre iniziative sul canale diversivo del Mincio e interventi che migliorino la fruizione delle sponde dei laghi. Conclusa la fase di progettazione e di assegnazione degli appalti, i lavori dovrebbero completarsi nell'inverno 2013-2014.